12 marzo è stata istituita in questa data una giornata di sensibilizzazione contro la violenza che viene perpetrata a danno dei sanitari. L'ASL come ha preso questa notizia? Qual è lo spirito con il quale si vuole celebrare questa giornata ma anche dare un senso vero? È una giornata proprio di educazione e prevenzione contro la violenza verso gli operatori sanitari e sociosanitari. Sono episodi che purtroppo si verificano, probabilmente anche questa situazione di emergenza pandemica dopo un primo momento di grande solidarietà verso il personale sanitario in realtà ha creato ancora maggiore tensione rispetto al passato e quindi è importante portare all'attenzione della cittadinanza questo tema. Nel senso che l'essere violenti, aggressivi sia a parole sia purtroppo anche concretamente nei fatti, nei gesti, oggettivamente poi non porta a nessun risultato. Poi oggettivamente è compito del personale decidere anche qual è in alcuni casi la miglior cura, il migliore intervento diagnostico da fare, mentre oggi c'è forse troppa ingerenza sulle decisioni che i sanitari devono prendere e questo è forse l'effetto negativo dei social. Ogni volta che vengono segnalati episodi di aggressione verbale o fisica o operatori sanitari si prende in considerazione la situazione. Teniamo presente che abbiamo anche un servizio che è il servizio di prevenzione e protezione interno che si impegna anche ogni volta a cercare di verificare quali possono essere anche delle cause strutturali, di ambienti che possono aver facilitato una situazione di aggressività verso il personale sanitario e quello che noi vorremmo fare è mettere in alto anche delle situazioni di prevenzione.